E destra bassa, la stessa, destra, molto più bassa, molto più bassa, prova a inserire il vomita, no, vomita, vedi come non riesce, vai, vai, funziona, non è così bene, Penso ma Petruaz che si новые, non sonora, non c'è solamente lo tirare, berrando, infini la piamba, давай, diez kingsine, e poi qui poi tiro fuori queste cose poi esco tutto con controllo poi ti scherzo vado se non vuole andare vado oh oh che non vuole posso provare aiuta? quanti elementi hai fatto? 2 6 ok ok perché la prossima volta quando ho lavorato dopo allenamento poi ho fatto un piccolo movimento e dentro di me sono appoggiati posso dire che tu sei calunni in legno di me e adesso non più? questi allenamenti si fanno morbido più duro più spingati non ci siamo da muscolo morbido in un attimo divini con un piede e tu hai fatto un piccolo movimento a, perché faccio il massimo, sei diventato come un lei hai fatto trecoate per l'esprezzi non c'è, non c'è, non c'è mai sono un sacco, non c'è una cosa che fa, non c'è un sacco non c'è un sacco, non c'è un sacco non c'è un sacco, non c'è un sacco non c'è un sacco la tua fisica non stiamo, basta di non fare questo c'è un sacco però prima non ci giuro e te, 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 te vieni bene, neanche non lo faccio oh ah un sacco Grazie. 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 due braccia aspetta alziti e questo e questo per non alziti per non andare alziti e poi questa cosa se vuoi ti trasmetti a prendere gamba invece questa gamba c'è gancia così sarà gancia questo profondo un gancetto così io mi alzio tu devi andare fuori 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 adesso con tutti due le gambe vai i bracci vai a sinistra con tutti due piano vai 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 tira 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 no 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 non ho mai fatto questa cosa da dietro in piedi no no questa è un'altra cosa adesso aveva sempre fatto quella così diventava così sì sì ma noi abbiamo fatto altre cose questo è completamente diverso sì sì sarà così hai vestito le mani chiusi così e il gambo qua qui qui grazie 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 in questo momento voglio mostrare che si fa da tanto da tanto che sempre non 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 adesso non 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 quando non 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 Vai! Vai! Scusi, copri troppo! No, no Hai capito, cosa succedono? No, cosa succedono? Vero? Rappi sempre ci Andai, la spina si è buttata Ma sapere ci? Non so, non so, non so Non so, non so Non so, non so Non so, non so